In un periodo di ferie e di biglietti aerei, le vacanze di dieci studenti sono diverse. Questo gruppo di giovanissimi è pronto a sgambettare per 45 chilometri con uno zainetto in spalla. La partenza è prevista per il 31 agosto alle 8, direzione Lecco. Gli aerei, comoda scorciatoia di distanze, finiscono per scorciare tutto, anche la comprensione del mondo. Scriveva così Tiziano Terzani nel celebre romanzo di viaggio Un indovino mi disse, sostenendo il piacere e il valore conoscitivo del cammino, dei tempi naturali con gli umani e non accelerati in quel mondo che si scopre alla nostra portata. Questo è lo spirito anche degli studenti dell'Istituto Tecnico Jacopo Nizzola di Trezzo sull'Adda. I ragazzi, guidati da due insegnanti, seguiranno i passi compiuti da Renzo, quelli che, nell'immaginazione del Manzoni, portano il promesso sposo di Lucia a fuggire da Milano per rifugiarsi dal cugino Bortolo. A svelarsi durante il cammino saranno la storia del lavoro e i monumenti dell'archeologia industriale, tra Trezzo e Lecco, passando da Crespi d'Adda e dal ponte di San Michele per citare due tappe rappresentative. L'arrivo è previsto per la sera del quarto giorno e domenica 4 settembre, dopo una visita guidata ai luoghi manzognani, i ragazzi torneranno al punto di partenza, ma più ricchi. L'anno scorso un altro percorso letterario si era trasformato in un percorso fisico, quello che sempre sui passi di Renzo ripercorreva la fuga da Milano. L'obiettivo, attraverso questi giovani pionieri, è individuare sul territorio il cammino di Renzo, per riproporre anche ai turisti una vacanza alternativa a misura Duomo, in cui ritrovare il piacere di soffermare lo sguardo e avvicinarsi alle cose, senza che sia l'oblò di un aereo a decidere cosa mostrarci.